L'istituto comprensivo Mazza Cola Marino di Torre del Greco è ritornata a Ciaxi Gita 2018 con gli alunni della scuola primaria. I piccoli attori e tecnici accompagnati da docenti e genitori nella bellissima e affascinante Castellabate hanno girato un cortometraggio che ha trattato il tema dell'autostima. Ehi tu, hai scambiato la primavera per l'inverno? Ma non vedi? Si è bevuta il cervello. Povera bambina, così piccola ed è già alcolizzata. Com'è stata questa esperienza da protagonista? Ricca di emozioni. Cosa pensi dei tuoi compagni di scena? Sono tutti quanti professionisti. Secondo te chi meritava il posto della protagonista oltre a te? Luca. Cosa pensi di questo? Vabbè, è uno che ti sa fare. Secondo te per migliorare questo film cosa ci vorrebbe? Niente, perché già è perfetto. Cosa ne pensi di questa esperienza? È molto bella. Cosa hai provato quando ti hanno detto che eri la protagonista? Mi sono emozionata per un pochino. Cosa tratta questo cortometraggio? Di una bambina che credeva di essere brutta. E alla fine si risolve che il ragazzo più carino della scuola si innamora di quella che non è bruttona. E vi sono tutti quelli che sono contenti. Cosa pensi del regista? È bravo. Che cosa ne pensi di questa esperienza? È stata un'esperienza bellissima, unica, particolare. E che ne pensi del nostro comportamento? Siete stati bravissimi per essere la vostra prima esperienza. Siete stati unici, meravigliosi. Complimenti. Grazie. Bene, stop. Come ci siamo comportati? Come secondo te? Ti rispondo subito un attimo che chiamo il mio assistente. Dove sei assistente? Eccolo qui, guardate. Lui è stato, naturalmente come anche tutti voi, fantastico, eccezionale. Ha lavorato benissimo. Mi ha dato una mano incredibile nel seguire la sceneggiatura che voi stessi avete scritto. Vi ricordate? In classe avete cominciato dall'idea. Poi siamo passati alla sceneggiatura, quindi la scrittura dei dialoghi, le location, eccetera, eccetera. E poi oggi il grande giorno per le riprese finali. Siete stati assolutamente fantastici, anzi è poco dire fantastici. Mi avete anche messo in difficoltà perché per la prima volta io ho dovuto pensarci molto per scegliere i protagonisti. Quindi ragazzi, complimenti a tutti. Continuate così, ma soprattutto la scrittura, la letteratura è fondamentale per fare poi alla fine qualsiasi cosa al mondo, qualsiasi lavoro. Quindi partite dallo studio e dalla scrittura e vi posso assicurare che tutto vi andrà bene. Quindi creativi, partecipativi, creativi, partecipativi, collaborativi, bravi tutti. Bravi, bravi, bravi. Veramente una bellissima esperienza da ripetere l'anno prossimo. Allora un arrivederci a tutti e ci diamo appuntamento l'anno prossimo. Bravi, bravi tutti.